pronto ma ciao oh il mitico ma buongiorno il mitico campione del mondo dell'82 il super difensore che fermò sia maradona che zico claudio gentile dimmi grande a volevi dirmi quella una cosa che hai detto in un'intervista su sul web che riguarda il calcio ma per bacco ma vado subito a vedere ma sicuramente è una cosa importante ci mancherebbe guarda vado subito a vederla e poi ti faccio un video ad hoc proprio dedicato a te e al mondiale dell'82 ma intanto vado a leggere quello che hai detto perché se mi dici che è una cosa molto molto importante su sui giovani soprattutto sul calcio moderno si vado subito immediatamente e lo racconto subito ai follower guarda ti ringrazio veramente per la telefonata onorato onorato anche se sei juventino tutta la carriera della juve però eh signori miei il difensore number one non si può non gli si può dire di no eh non ti non ti posso assolutamente dire di no guarda vado subito a vedere quello che che hai detto eccetera nell'intervista così poi magari ne parlo anche coi coi miei giovani birgulti che mi seguono ben volentieri guarda guarda ti ringrazio della telefonata vado subito ah ma hai già girato il link sulla mia perfetto così almeno vado vado a leggere perfetto ti ti ringrazio tantissimo della telefonata e non ti preoccupare che pensimi ciao e grazie scusate ragazzi era era claudio gentile il mitico difensore difensore della nazionale difensore della juve degli anni 80 quando molti di voi non erano neanche nati quindi adesso mi stop un attimo vado a vedere stampo quello che ha detto e poi ci rivediamo e vi racconto che cosa ha detto e ne parliamo perché sono curioso anch'io mi ha detto che ha fatto delle dichiarazioni importanti sul calcio di adesso i giovani soprattutto e il calcio e quindi vado subito a vedere che cosa ha detto lo stampo e ve lo leggo poi ne parliamo arrivo subito bene 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 allora sono andato in camera ho stampato sono andato anzi prima sono andato sul sito a vedere perché mi ha mandato il link andiamo a leggere quello che è perché è andato giù pesante allora leggiamo che cosa ha detto il mitico claudio gentile ai miei tempi seri bravo andavi avanti adesso invece comandano altre dinamiche ho visto molti ragazzi di talento nelle giovanili dei potenziali campioni mollare perché sorpassati da raccomandati quei ragazzi hanno detto non gioco anche se sono il più forte allora cosa sto a fare qui e hanno mandato tutto in fumo e così i talenti si disperdono nelle scuole calcio molti allenatori invece di far crescere i ragazzini insegnando loro a marcare li imbottiscono di nozioni tattiche a 11 13 anni dovrebbero pensare a divertirsi noi giocavamo per passione era qualcosa che sentivi dentro si imparava all'oratorio dove facevamo partite per 6 7 ore miglioravamo così giocando c'era amore verso il calcio mentre adesso sono i genitori che spesso spingono i figli sperando siano i nuovi ronaldo per fare un mucchio di soldi io abitavo a brunate andavo tutti i giorni fino a como a piedi era la passione che mi spingeva non come adesso che vanno al campo tutti griffati con scarpe da 250 euro è un'intervista di claudio gentile che appunto da il giornale bene ragazzi cosa dire è brutto quello che appena detto sentire che ci sono anche anche nel calcio tra i ragazzini che arriva il papi gli dice allenatore mio figlio deve giocare ma il suo figlio è il più scarso di tutti scusi non ha un minimo di talento non ha è grezzo come non so mai lui e il calcio c'entrano come malgioglio con le donne no ma lui deve giocare sì ma io c'ho il nel suo ruolo ce n'è uno che offre l'effetto non mi interessa lui deve giocare qua ci sono 10.000 euro lei mi fa giocare mio figlio capite che lo stesso vale se magari la scuola calcio eccetera è sponsorizzata da dal personaggio che dice signori io vi sponsorizzo vi do le maglie vi do le scarpe vi do tutto vi sponsorizzo tutto qua tutto l'ambaradano come come direbbe il doghi però mio figlio deve giocare dove lo metto e non distingue un tiro col col piatto col tiro col di collo cioè è ma mio figlio deve giocare perché questo che sta dicendo gentile è vero che magari certi ragazzini se in una squadra non va bene poi andare in una squadra minore e dimostrare di essere più forte magari andando a battere con la squadra meno forte diciamo con te in in rosa quell'altra che magari ti ha snobbato però giustamente io leggo di tanti di tanti genitori che fanno sacrifici per prendere i figli portarli in una scuola calcio l'altro in un'altra scuola calcio l'altro in un'altra scuola calcio era un articolo che avevo fatto tempo 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 fa quando avevo iniziato a scrivere per inter live di un di un genitore che raccontava dei campioncini che adesso stavano giocando adesso i nomi non me li ricordo però ha detto per far arrivare ai miei figli che adesso giocano nell'inter giovanile eccetera inizialmente dovevo portarli a como nell'altra io abitavo in brianza e dovevo portarli a como dovevo portarli di qua dovevo portarli di là perché ognuno aveva non giocavano tutti nella stessa squadra quindi era un continuo giro giro tondo durante i weekend per portarli a giocare quindi ragazzi sentire un campione del mondo come claudio gentile che dice noi giocavano è vero io ve l'ho raccontato spesso che quando ero bimbo tornavo a casa dalle elementari già o anche dalle medie alla una mangiavo e poi dalle due alle cinque andavo a giocare a pallone finché c'era chiaro poi dopo dovevo tornare a casa farmi la doccia studiare fare quello che c'era da fare fare i compiti eccetera perché mi è comunque diciamo che come ben sapete le medie per me sono state un incubo ma comunque io il tempo libero lo dedicavo a giocare a calcio o a giocare a tennis ma più che altro a giocare a calcio diciamo che l'estate magari mi dilettavo anche con il tennis però tendenzialmente ero uno che giocava a calcio quando venivo qua al lago iniziavamo al mattino a giocare alle nove del mattino nove nove e mezza ci trovavamo nel campo qua di fronte del dell'oratorio di di domaso che adesso è bello con bello insomma ha messo l'erba sintetica allora era in in sabbietta c'era 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 il terreno per intenderci quindi ti facevi anche un gran male se cadevi perché c'era sabbiettina e poi sotto c'era c'era il duro del del terreno infatti quando giocavo in porta mi diceva gigi ma ti bardi sempre sì perché se no mi faccio malissimo quindi io sudavo come un animale perché d'estate con maglietta golf e maglietta da portiere o tutona paragomiti ginocchiere e parastinchi con la tuta lunga naturalmente e nonostante ciò ogni tanto tornavo a casa bello sbrasato sulle cosce e quindi ragazzi miei noi giocavamo giocavamo tutto il giorno 9 e mezza 12 e mezza andavamo a casa doccia mangiavamo due e mezza massimo tre ma solitamente due e mezza tornavamo lì fino alle sei sei e mezza perché poi arrivava il don bruno a dirci ragazzi devo fare messa via a casa perché non voglio sentire schiamare quindi alle sei e mezza finivi di fare la tua partita e tornavi a casa sette ore 12 13 14 anni 10 anni 11 anni 9 anni io penso che il primo gol che ho segnato da bambino proprio il mio primo gol lo ricordo ancora cross basso del lele o il meme lele come lo chiamavamo perché assomigliava a reali e palla in mezzo io che la calcio al volo la metto dentro poi va bene lele mi disse sì hai segnato perché te l'ho messa ti ho tirato addosso però io il piede ce l'ho messo e è vero che io giocavo sempre di punta ho imparato piano piano a giocare a pallone poi piano piano furia di giocare riesco a usare il destro riesco a usare sinistro sto in porta posso giocare come alla destra l'ho dimostrato nel torneo mi hanno anche detto gigi cosa fa il portiere a fare però lo facevamo con passione mica pensavamo diventerò chissà chi no giocavamo a pallone per il piacere di giocare a pallone adesso ha detto giusto gentile i genitori sono i primi a spingere perché sperano di che il figlio li riempia di soldi eccetera eccetera non lo fanno per quello come il ragazzino di 18 anni un milione un milione e due all'anno ma stiamo scherzando poi si montano la testa cominciano a vedere come diceva nicola berti avrei potuto vincere il pallone d'oro se non avessi conosciuto la la patata per non usare un altro termine perché perché poi cominci a vedere soldi quindi cominci macchina bella ragazza bella localini localucci localacci cominci a uscire a divertirti a fare lo sborone e poi non hai più voglia di allenarti perché è tutto per scontato e se non fai vita d'atleta la carriera comunque ragazzoli fatemi sapere voi cosa ne pensate di quello che ha detto gentile di questa frase che a me di un ragazzo perché probabilmente avrà sentito tanti ragazzi dire non gioco anche se sono il più forte allora cosa sto a fare qui e hanno mandato tutto in fumo questa è una cosa triste 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 detto questo vi saluto vi ringrazio e ci vediamo ai prossimi video ciao